Il treno regionale 11086 di Trenitalia, proveniente da Padova, è diretto a Regiuno, delle ore 14.21 e in arrivo al binario 3. Il treno regionale 11086 di Trenitalia, proveniente da Padova, è diretto a Regiuno, delle ore 14.21 e in arrivo al binario 3. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Gorghetto, Monte Belluna, Cornuta, Pedrova, Carazzo, Postanio, Alano, Tenerba, Doppiade, Nero, Vance, Vestre, Busche, Venti, Aimee, Santa Eugina, Centio, Delico, Brivano. Annuncio ritardo. Il treno regionale 2592 di Trenord, delle ore 14.27, proveniente da Tirano, è diretto a Belluno, arriverà con 105 minuti di ritardo. Ci scusiamo per il disagio. Il treno regionale 5885 di Trenitalia, proveniente da Monte Belluna, è diretto a Previso Centrale, delle ore 14.17 e in arrivo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Tostioma, Paese Castagnone. Annuncio ritardo. Il treno regionale 2592 di Trenord, delle ore 14.27, proveniente da Tirano, è diretto a Belluno. Arriverà con 105 minuti di ritardo. Ci scusiamo per il ritardo. Il treno regionale 5885 di Trenitalia, proveniente da Monte Belluna, è diretto a Previso Centrale, delle ore 14.17 e in arrivo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Tostioma, Paese Castagnone. Annuncio ritardo. Il treno regionale 2592 di Trenord, delle ore 14.27, proveniente da Tirano, è diretto a Belluno, arriverà con 110 minuti di ritardo, diversamente da quanto già annunciato. Ci scusiamo per il disagio. Il treno interdizio 778 di Trenitalia, proveniente da Ventimiglia, è diretto a Firenze Santa Maria Novella, delle ore 14.26 e in arrivo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Tadova, Rovigo, Ferrara, Bologna Centrale, Rato, Firenze Camponate. Il treno regionale 11.086 di Trenitalia, delle ore 14.21, per Belluno, è in partenza dal binario 3. Ferma a Borghetto, Montibelluna, Cornuda, Pegro, Carazzo, Possagno, Alano, Penerva, Dobbiadene, Guerra, Vanzo, Pestre, Pusche, Venti, Aimaed, Santa Giustina, Censio, Sedico, Privano. Annuncio ritardo. Il treno regionale 25.92 di Trenord, delle ore 14.27, proveniente da Pirano e diretto a Ventimiglia, è diretto a Firenze Santa Maria Novella. Le ore 14.26, è in arrivo al binario 2. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Tadova, Rovigo, Ferrara, Bologna Centrale, Rato, Firenze Camponate. Il treno regionale 11.086 di Trenitalia, delle ore 14.21, per Belluno, è in partenza dal binario 3. Ferma a Borghetto, Montebelluna, Cornuda, Pegro, Carazzo, Possagno, Alano, Penerva, Dobbiadene, Guerra, Vanzo, Pestre, Pusche, Venti, Aimaed, Santa Giustina, Censio, Sedico, Privano. Il treno regionale 25.92 di Trenord. Delle ore 14.27, proveniente da Tirano e diretto a Belluno, arriverà con 110 minuti di ritardo, diversamente da quanto già annunciato. Ci scusiamo per il disagio. Il treno regionale 25.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Il tremo regionale 54-56 di Tremitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Caorletta, delle ore 14.32, è in arrivo ordinario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Caorletta Istituto. Il tremo regionale 54-56 di Tremitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Caorletta, delle ore 14.32, è in arrivo ordinario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Caorletta Istituto. Annuncio ritardo. Il tremo regionale 25-92 di Tremitalia, delle ore 14.27, proveniente da Tirano, è diretto a Betuno, arriverà con 110 minuti di ritardo, diversamente da quanto già annunciato. Discutiamo per il disagio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Treno in transito al binario 3 allontanarsi dalla linea gialla. Attenzione! Treno in transito al binario 3 allontanarsi dalla linea gialla. Annuncio ritardo. Il tremo regionale 25-92 di Tremitalia, delle ore 14.27, proveniente da Tirano, è diretto a Betuno, arriverà con 10 minuti di ritardo, diversamente da quanto già annunciato. Ci scusiamo per il disagio. Il tremo regionale 25-92 di Tremitalia, proveniente da Treviso Centrale, è diretto a Betuno, delle ore 15.10, è in arrivo ordinario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Treno in transito al binario 3 allontanarsi dalla linea gialla. Sperma a Castelfranco Veneto, Campo San Piero, San Giorgio delle Perdiche, Campo d'Arcego, Vido d'Arcele. Annuncio ritardo. Il tremo regionale 25-92 di Tremitalia, delle ore 14.27, proveniente da Tirano, è diretto a Betuno, arriverà con 110 minuti di ritardo, diversamente da quanto già annunciato. Ci scusiamo per il disagio. Sperma a Castelfranco Veneto, Il tremo regionale 54-60 di Tremitalia, proveniente da Borghetto, è diretto a Venezia Mestre, delle ore 15.13, è in arrivo ordinario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Sperma a Mugliano Veneto, Venezia Mestre, ospedale. Il tremo regionale 54-60 di Tremitalia, proveniente da Borghetto, è diretto a Venezia Mestre, delle ore 15.13, è in arrivo ordinario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Sperma a Mugliano Veneto, Venezia Mestre, ospedale. Annuncio ritardo. Il tremo regionale 25-92 di Tremitalia, delle ore 14.27, proveniente da Tirano, è diretto a Belluno, arriverà con 110 minuti di ritardo, diversamente da quanto già annunciato. Sperma a Mugliano Veneto, Venezia Mestre, ospedale. Sperma a Mugliano Veneto, Venezia Mestre, al Grazie a tutti. 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 Attenzione. Grazie a tutti.